Musica Buonasera e ben ritrovati Ieri il Bruno Mossa del Rezende Il grande campione che ha giocato a Modena per tanti anni Ha chiuso la sua parentesi in maglia gialloblu come giocatore Poi chissà magari in futuro potrà anche tornare E noi partendo da questo evento incontriamo questa sera un grande imprenditore Che tanto adatto al mondo della Palauro Ma che soprattutto nel ruolo di presidente portò nel 2011 Bruno a giocare a Modena Io saluto e ritrovo con grande piacere Giuliano Grani Benvenuto Giuliano Buonasera, ciao Paolo Tutto bene? Tutto bene Allora partiamo appunto da lì No dal fatto che in quel periodo ci fu l'esigenza di sostituire un palleggiatore Nel caso specifico era Esco Eravate in prossimità dei playoff Il direttore generale era Bruno Darè C'era da trovare un palleggiatore E lì c'è stato un momento che sicuramente può aver cambiato anche un po' la storia della pallavola a Modena Cosa è successo e che ricordi hai di quei momenti Mentre noi vediamo le immagini prima della partita di addio di Bruno da Modena Ma anche della conferenza stampa di presentazione di Bruno Adola Darè c'era stato appunto l'infortunio di Esco Era stata una cosa molto grave Darè ha proposto questa opportunità Io ho detto subito di sì Non conoscevo molto bene Bruninio a dire il vero Però già che fosse il figlio di Bernardino Era una garanzia che penso dal punto di vista E come si è dimostrato Però noi l'abbiamo ricostruita Ci hanno detto che in quel momento lì Un brasiliano sarebbe venuto a Modena C'era una partita dove giocava da una parte Rodrigao e dall'altra parte Bruno Chi perdeva aveva la possibilità di venire in Italia Perse Bruno e arrivò Bruno La domanda che uno si sempre posta è Ma se Bruno avesse vinto quella partita Da voi arrivava da Rodrigao E forse anche la storia di Modena di pallavolo sarebbe cambiata In meglio, in peggio non lo so Però diciamo in quel momento lì Voi eravate quasi costretti a prendere quello che offriva il mercato Io penso che nello sport ci sono delle cose che sembrano scritte Spesso succedono delle cose che poi dopo A volte c'è un grosso dispiacere che diventa una gioia molto più grande Oppure ci sono delle coincidenze Tutti gli sport secondo me che sembrano quasi scritte E quindi il destino ha voluto questo Come il destino suo E consiglio a chi non l'ha ancora letto di leggere il suo libro Perché è veramente favoloso Come il destino suo Gli ha poi creato tante cose Dalle quali anche le più gravi, le più brutte Dopo hanno avuto una rivincita ancora migliore Qua oltretutto il percorso è stato difficile Di quando lui è arrivato qua E ne abbiamo parlato anche a cena E abbiamo detto Bruno Tu sei venuto via da là perdendo quindi per una rivincita Lui è arrivato a Modena Se ci ricordiamo Avevamo l'ultima partita di campionato contro Monza Perdemmo e passiamo dal quarto al quinto Quindi dovevamo andare a fare i playoff a Monza Fuori eventualmente Siamo andati a Monza e abbiamo perso ancora Quindi lui ha perso le prime due partite Quindi ha dimostrato già lì un grande carattere Oltre all'abilità Qui doveva ancora giocare Ma siamo in fase di presentazione E quindi lui è stato bravissimo a reagire Ci ha portato a vincere poi quel playoff lì Quella quarti di finale alla quinta Con Monza la quinta partita Poi lui insieme a Dennis Coista principalmente Pioliati i ragazzi Coi Casoli Che eravano riusciti a creare un mezzo miracolo con Trento dopo Ma sapevate già Giuliano che lui sarebbe andato via dopo questa parentesi O si era parlato anche di una possibile sua permanenza Modena anche per la squadra Noi abbiamo parlato per fare questo campionato Non abbiamo parlato del dopo E ne parlammo dopo Dopo che uscimmo Che abbiamo fatto comunque una cena Bella comunque Perché siamo usciti a testa alta Conto Trento Peccato che si era creato questo bel gruppo E dopo lui disse che se ne andava Probabilmente aveva già altri accordi Quindi però so che Modena gli era rimasta già nel cuore Per quel piccolo pezzo lì Quindi lui quando poi ha avuto l'opportunità Ma Modena nella pallavolo Dà qualcosa in più di tutto il resto Adesso voglio dire c'è Macerata da anni C'è Perugia da un po' È venuta Trento Però come Modena non c'è nessuno Cioè Modena è Se vogliamo dire Il calcio Roma, Milano, Torino Cioè Modena è Quello che dà i giocatori Non lo dà nessun'altra città Poi ci sono stati momenti che ha vinto molto di più Fortunatamente Negli ultimi anni un po' meno Però Modena è adattato E i giocatori vengono volentieri Abbiamo visto le immagini della presentazione Abbiamo anche quella del saluto Perché lui arrivò il primo di aprile Comunque l'annuncio fu il primo di aprile del 2011 Dopodiché se ne andava dopo 40 giorni In quel mese molto intenso di impegni Credo che ci fosse un po' di specie di tutto E si vede che è molto giovane Sono stati 13 anni E oggi lì aveva 25 Sì, 26 Insomma diciamo era al pieno della sua attività Doveva ancora cominciare a conquistare tutte le cose che ha conquistato Delle medaglie d'oro all'Olimpiadi A vincere i mondiali E a vincere anche con il club Forse avrebbe potuto anche vincere di più con Modena Nel lancio di questa trasmissione Hai accennato perché probabilmente è ancora lì Modena ricordiamo vince i quarti di finale con Modena Si qualifica per le semifinali E incrocia Trento Che in quegli anni era una squadra che andava per la maggiore Quasi imbattibile Quasi imbattibile Si riesce ad arrivare a gara 5 Perché Modena vince le due partite in casa Perde le due fuori Si vive a gara 5 Ricordiamo che quell'anno lì Per motivi organizzativi della Lega C'era una finale secca Cioè si sarebbe giocato solo una partita Per assegnare lo scudetto A Bologna A Bologna A Bologna Tra l'altro Tra l'altro Proprio dentro l'angolo Qui vedete Dennis in primo piano Questa è quella squadra che affrontò Quella Qui siamo ancora a Modena Dopodiché vedremo il momento dell'infortunio di Dennis Che quello Perché diciamo La partita aveva il suo andamento Anche favorevole a Modena C'era una squadra in fiducia Ecco Sì sì Quando io Perché diciamo che noi abbiamo vinto meglio le nostre due a Modena Che perso le due a Trento Perché quelle due che abbiamo perso le avevano comunque combattute E poi Dico io Voglio dire Parlo di cose che ero lì E quindi Lo vediamo Chi mi ascolta Chi mi ascolta sa Che ero abbastanza nervoso ogni tanto Per decisioni o meno E non c'era il Il check Che poi Se ne parlava Ed è stato messo dopo Poi c'era l'infortunio che comincia a già accusare qualche problemino Aveva già un po' di Giocava con il male A questa gamba Aveva già un po' di affaticamento Poi lì arrivò a farlo strappo E Dennis diciamo Era il leader Diciamo Il punto di riferimento in attacco di Modena Rimase qua Tanti anni È stato uno dei vostri giocatori più importanti di quel periodo Rimane il rimpianto perché Insomma Mi ricordo che si diceva che Se Modena fosse andata a finale contro Cuneo Partita secca può succedere di tutto No no ma io Sì Sei convinto che l'avreste vinto Ha vinto Ha vinto Trento in 52 minuti Cioè una passeggiata Cuneo aveva avuto la sfortuna anche loro Che si era fatto male Parodi Quindi un giocatore importante Quindi Chi arrivava lì vinceva Penso E quindi Lo scoglio era quella partita lì E ti ripeto L'aria che si respirava quella sera a Trento Quando sono arrivato Sembrava quasi più di essere a Modena Che a Trento C'era un pubblico C'era un pubblico Molto folto e convinto che ce la potevano fare C'era una squadra che era spinta Tant'è vero che Perdemo il primo set anche lì per alcune decisioni Che Se hanno riusciti a reggere E vincere il secondo Nel terzo Eravamo in vantaggio E Devano giocarci La purtroppo Qui siete già a Trento Vedete il massaglientore Che si sta occupando Dello stato di salute Di Dennis Avete visto in panchina Daniele Bagnoli E uno dei suoi assistenti È Fabio Soli Che oggi allena Trento Che è lui E' uscito di scena Dalle semifinali Ma è sicuramente un allenatore Che si è formato Prima come giocatore Nella vostra squadra Giuliano Poi come allenatore Fabio Soli Quindi quello era il tuo sesto anno Nel mondo della pallavolo E probabilmente Quella è stata la squadra migliore Quella più competitiva Ci è voluto così tanto tempo Per capire un po' le dinamiche Della pallavolo Fare le scelte giuste Anche se voi avete sempre Cercavo di fare delle squadre competitive Ma noi Anche i primi anni Primo anno con Velasco In realtà Anche lì Uscimmo male con Trento Ma eravamo Una squadra forte Con Riccardo Salto Rettimo Mastrangelo Gianni E anche lì Poi ripeto Lo sport Delle volte Sono episodi E con Trento Eravamo vicini a vincere Lì ci diedero Mi ricordo Un punto contro Per una linea o non linea Sono diventati tre Perché poi c'è stata Il punto contro Invece che noi L'ammunizione di Felipe Perdemo quel set Che avremmo passato il turno Poi vennero qua E qua ci avevano Proprio battuto Mastrangelo Mastrangelo Vedo Quella era diventata Paolo Non era la squadra Era per caso diventata La squadra più forte C'era chiarata un'alchimia Perché Noi Tu ti ricordi bene Giocavamo con i due Schiacciatori di riserva Perché i titolari Erano Diaz e Beresco Tutti e due infortunati Quindi giocò Coi che aveva Sì Una ventina d'anni Giovane E Casoli che doveva essere Un terzo Certo E poi Bruno fece poi i miracoli Con dei primi tempi Con Coistra E Creus Giocavano dei primi tempi Del Dennis un po' E quindi è diventata forte Un po' con l'alchimia Di tutti Di tutti insieme E tant'è vero che dopo Quella sconfitta lì L'anno dopo Provammo L'anno dopo Invece fu una delusione Perché provammo a fare Una squadra veramente forte Ancora per riprovarci Invece l'anno dopo Sono quelle cose che Capitano allo sport Se non si crea La chimica Questo succede nel calcio Nella pallavolo Ma sei contento Tu di qui Tu hai sette anni Nella pallavolo Lo rifaresti ancora Lo rifaresti in modo diverso No Sono stati anni Belli Di Grande impegno Perché Le cose che faccio Cerco di farle bene Di metterci il massimo Io ho intervistato Vandelli recentemente Giovanni Del quale voi avete preso la squadra Gli abbiamo chiesto Ma quanti soldi Ci hai rimesso Comunque Non è tanto quello che ho speso Ma è stato il tempo Che ho dedicato Alla pallavolo Che è quello che magari Nessuno ti restituisce più Che è un po' così I soldi Quello che si poteva L'abbiamo fatto Dopo Quando poi abbiamo deciso Di uscire La situazione secondo me Diventava troppo pesante Ed era un po' insostenibile Perché Io avevo due Due Pensavo a due cose Del mondo della pallavolo Uno Che C'erano dei costi Troppo alti E non si poteva L'ho sempre detto in Lega A differenza del calcio Partire sempre da zero Con i ricavi Se non avere mai contributi Mai Sempre gli azioni Scorso dei diritti televisivi Un po' di questa roba qua Tutta roba Per i proprietari Sempre sono proprietari Che dovevi Sempre I costi erano tanti Cetti E crescevano sempre Quindi pensavo anche che Forse un mondo Che facesse fatica dopo In realtà Mi sono sbagliato Perché ha continuato a crescere Sia di livello Che Con altri investitori Che anche costi più alti Con investitori Altri investitori Ma sempre pochi contributi Sì pochi contributi Però Adesso Qualcosa Sono riuscito a ottenere Grazie alle capacità Che penso Abbiano un presidente Di grande valore Che era un direttore generale Ma secondo me è sempre stato Il tutto fare della Lega Che è Massimo Righi Che è una persona Molto in gambo Molto capace È una gran brava persona E quindi Lui È stato molto importante Per la crescita del movimento Più sono stati importanti Ovviamente Quelli che Mettono la passione Che ci sono società Dove ci sono presidenti Che hanno una passione sfrenata E quindi Mettono i milioni di euro Perché possono permetterseli E li mettono Il tempo Eh In quegli anni Io Ci dedichi Il tempo Che potresti dedicare A fare dell'altro Invece di andare Con gli amici a cena A giocare qua o là Erano riunioni Erano cene Tutto il tempo Oltre perché Avendo delle attività La passione Lo facevi volentieri Però Un po' Era bello E un po' Erano sempre tante Grande da risolvere Soprattutto perché poi Era una società La nostra Che Eravano diversi proprietari Diversi soci Quindi non è che Pensassimo sempre uguale Quindi delle volte Per decidere Ci voleva più tempo E quindi Tu sei stato uno degli ultimi Imprenditori Del territorio Modenese A investire Nel mondo Dello sport Oggi Modena Calcio È di una famiglia Milanese La Pallavolo Modena Pallavolo È di una Signora Di Milano Che è il 70% Il 30% È la famiglia Storci di Modena Il Sassuolo Calcio Che fa per ora La Serie A È di una famiglia Milanese Non c'è traccia Di imprenditori Modenesi A supporto Dello sport Professionistico Tu come lo spieghi? Ma Ci sarebbero E sempre Dopo Panini Voglio dire Anche Vandelli Non era un Modenese Cioè Stai venuto qua Ha fatto Tanto Anche il calcio Fa fatica E il calcio Uguale Anche in passato Sono venuti Presidenti Da fuori Quindi Ma non so se Allora Imprenditori modenesi Secondo me Ci sono degli imprenditori A dei livelli Che A livello economico Potrebbero gestire Il Modena O la Palavolo Proprio Esatto Senza Un impegno Manca la passione Secondo te? Ma Forse la passione Non so Ognuno Forse C'è chi i soldi È contento di spenderli E penso che In altro modo Quelli Parliamo di Perugia Parliamo di Macerata Appunto Parliamo di Altre realtà Che Gli fa piacere Probabilmente Spenderli per questa cosa Hanno anche delle aziende Dietro Hanno anche delle aziende Ma qua ci sono delle aziende Anche più grosse Delle loro Però Non Non È una questione Che Non lo sai Perché La famiglia Rivetti Investe Diciamo Dalle proprie Casse Familiari No La signora Gabana Stessa cosa Non vende cucine O produce gas Come da altre parti Quindi diciamo Che sono Delle realtà Dove i modenesi Devono essere Contenti Che questi imprenditori Non del luogo Si siano messi a disposizione Per investire Sostenere Lo sport professionistico Che Sicuramente Genera anche Delle soddisfazioni Ma anche Dei pensieri E comunque Delle perdi In fatto di denaro Allora Noi ci fermiamo Un attimo Per la pubblicità Poi riprendiamo La nostra chiacchierata Con Giuliano Grani Allora In questa puntata Ritroviamo Giuliano Grani Imprenditore modenese Che per sette anni È stato nel mondo Della pallavolo Certo è che Il mondo È veramente strano Tu vieni In una famiglia Di calciofili Tuo papà È stato Un ottimo calciatore I tuoi fratelli Tu insomma Sempre appassionati Di calcio C'è stato un momento Anche in cui Eravate Propensi Anche a entrare Nel modenese Nel 2018 Se non sbaglio 2008 No E invece Ti sei gettato Nella pallavolo Ti sarebbe piaciuto Ti è mancata Questa esperienza Nel mondo del calcio No In realtà Poi Avevamo fatto Un tentativo Con Dino Piacentini Nel 2008 Mi ricordo bene Perché Amadei vendeva Al Modena Io mi ricordo Una tua frase Me la sono segnata Io Giuliano Grani Trattavo con il figlio Amadei Alfredo Il padre Trattavo con Trunfio Dall'altra parte Dall'altra parte Quindi alla fine Non vi siete Dicendo No Ma dopo sono andati Avanti per l'altra strada Noi avevamo un'idea Avevamo fatto delle riunioni Con la famiglia Piacentini Perché anche loro Voglio dire Hanno una tradizione Certo Non da poco Giovanni è stato un grande calciatore E quindi Dino aveva la passione Ma era un po' legato A me venne questa idea Perché poi c'era in mezzo anche Il rugby Dove il presidente era Il mio grande amico Almer Bercelli Certo Che ricordiamo Grande persona Dobbiamo ricordare anche lui Purtroppo C'è troppo C'è da ricordare E tu hai in testa D'idea della polisportiva Allora io andai Quando andai A Treviso A trattare Un giocatore Che c'era da Ravidi Questa Questa Sì sì Accentro sportivo Della Sisle Accentro sportivo La Ghirada Si chiama Ghirada Che Bellissimo dove c'erano Mi fecero Addirittura La più impressione I bambini piccolini Tutti che usciano D'ospettore Con la maglia Riga del rugby Che andavano a allenarsi Poi di fianco c'era La pallavola Avevano il basket Avevano centro servizi Era una cosa stupenda Allora ho detto Siamo amici di Almer Se c'entrasse calcio Pallavola Modena Che invece che Loro avevano il basket Unire tutto E fare una cosa del genere Un bel centro sportivo Ossia L'idea era Un centro Multifunzionale Dove c'erano Far crescere i ragazzi Gli professionisti Ma anche Una mini Diciamo Modena 2 Dove ci potevano Nessere delle abitazioni Dove i ragazzi Come una volta Quando eravamo giovani Noi c'erano dei campi Da calcio Da base a pallavolo Per iniziare a giocare Un quartiere sportivo Grande Una grande Mini Allora questa era un po' L'idea Dopo Modena Non riuscì Ma fare l'operazione E anche l'altro progetto Dopo Chiaramente Non andò avanti Era un'idea Molto difficile Un po' visionaria Però Un po' Con del criterio E un po' Con della passione Perché purtroppo Già in quegli anni Ma anche adesso Non c'è più Questa possibilità Per i ragazzi O li porti Alla polisportiva Allenarsi Due volte Tra settimana Un'ora Che non serve a niente Noi giocavamo Facevamo lo sport 6-7-8 ore al giorno Fuori In tutta Italia Allora lì cresci In molti posti Se no Non vai da nessuna parte Lo sport Quello che ho sempre detto Lo dicevo Quando venivano le tue trasmissioni È Trattato male A livello scolastico È trattato male A livello dei bambini Che crescono Che fanno poco sport E quindi Ci sarebbe da Parlare molto E il sistema Da cambiare Perché lo sport Fa bene Sia fisicamente Che mentalmente Poi se uno fa carriera bene Se no ti insegna tanto E quindi dovrebbe essere Molto più Al centro della scuola E al centro Dell'attenzione Ma non Come adesso Un'ora ogni tanto Con Punto di aggregazione Quella dell'impiantistica È una problematica Pensa che Modena a calcio Ancora oggi È lì che aspetti I permessi Per poter fare Quello centro sportivo Che sarebbe pagato E sarà finanziato Da un privato Questo per quanto riguarda Lo sport professionistico E di un centro sportivo Legato al Modena Se ne parla Da 40-50 anni Ma sul Modena C'era stata anche Una tua partecipazione Alle consultazioni Nel 2018 Dopo il fallimento Il sindaco Convocò Alcuni imprenditori E mi ricordo Che su uno di questi colloqui Hai partecipato anche tu Non so se insieme a Luca Toni O qualcosa No era andato con lui Perché Con Luca Toni Ti è rimasta un po' Questa voglia Di provare a vedere Avevano fatto un sondaggio Da un po' Da un po' Da un po' Di imprenditori Gente dello sport Per vedere se ci poteva essere Interesse o meno Luca Toni si era proposto Con le sue amicizie Eccetera eccetera A fare qualcosa per il Modena Quindi Andiamo insieme Visto che Ci conosciamo Siamo amici Lui abita vicino Lì a Montale E è venuto Diverse volte Anche a giocare A casa nostra Al campetto Allora Proviamo a sentire E poi Era stata solo Questa riunione E poi le strade Sono state diverse Sì Torniamo Al pallavolo Tutto cominciò nel 2005 Coinvolto da Pietro Pei Con i quali avevate Rapporti di lavoro Pietro Pei Che ricordiamo Con grande affetto E soprattutto Per quello che è stato Il suo apporto Al mondo della pallavolo E lì rilevate La pallavolo Modena Da Vandelli Qui appunto Abbiamo le immagini Di allora Vandelli Barone Peia Mi pare Anche Barone Da ricordare Barone Anche lui Cate Pedrini L'avvocato Lotti Che rappresentava Non mi sembrai Molto convinto No vabbè Ma io sono sempre Purtroppo Il mio atteggiamento Sempre Appostanza serioso In quel momento lì Quindi rilevate da Vandelli Anche lì E' arrivato A fine corsa Anche Vandelli Quindi cominciate Con questo gruppo Con Barone Con Katia Pedrini Insomma Quando Accennavi prima Che non eravate da soli Ecco A guidare Beh sì Era stato fatto Con Peia Poi Conosceva Barone E quindi Mo si c'era stato Un po' Si sentiva in giro Noi Peia Poi con Bassinghi Questa cosa Interessata Ma fu Peia A radunare A creare questo gruppo Ma diciamo che Salto fuori Peia mi disse A sta roba Che Vandelli Voleva vendere Lui siccome Come sai Era procuratore Pallavolo Eccetera Ma nel cuore Aveva sempre Modena Aveva questa idea Quindi Dopo Si sentì Che c'erano Le cordate Una nostra Un'altra Che poi Allora Peia gli parlò In realtà Dice Ma che cordate Facciamo qualcosa Insieme Ci parliamo E capiamo subito Che fare qualcosa Insieme Si poteva fare Poi Siamo partiti Abbiamo cercato Abbiamo fatto Poi due anni Insieme Poi Per divergenze Varie Loro sono usciti Sì E poi abbiamo fatto Io e Peia Per cinque anni Direi Poi dopo Loro Tu hai conosciuto Nel tuo periodo Qua vedo tra l'altro Andrea Sartoretti Che è stato Uno dei vostri giocatori Hai conosciuto Grandi allenatori Che hanno scritto La storia Dell'epoca Erano Hai cominciato Con Velasco Che è stato il primo No? Quei siete tratti E c'era Velasco E hai finito Con Daniele Bagnoli Che forse non era Il massimo Della sua carriera In quel periodo Ma che qualcosa Ha rappresentato Oltre a Bagnoli E a Velasco Il fratello di Bagnoli Bruno Gianni E Silvano Prandi Quindi diciamo Oltre a Zannini Cambiate tanti allenatori C'era un po' di movimento Però Che ricordo hai Dell'esperienza Ad esempio Con Velasco Avete avuto La possibilità Di entrare In sintonia Ti dico Molto in sintonia Io con Velasco Chiaramente Hai a che fare Con un allenatore Con una persona Che ovvio Che il mio ruolo Era quello dirigenziale Però Con un allenatore Un personaggio del genere Devi comunque Porti In un nuovo In un modo Di Di ascoltarlo Anche molto Non deve avere La presunzione E quindi Ascoltarlo Poi le decisioni Vanno prese Quindi È stato Molto Importante Con Norsoli Abbiamo avuto Un rapporto Splendido Con lui E con il suo vice Che era Blengini 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 Che poi diventarono Una nazionale Che è stato Uno dei rimpianti Miei E fa più solido Perché fosse il terzo Quindi per dire Che staff c'era Sì sì E quindi Con Velasco È una persona Che Da ascoltare Ti può dare Tanti insegnamenti E tu hai ascoltato I suoi insegnamenti Ma sì Perché poi Quell'anno lì Per quel che ho potuto Sì E per quel che Non ho potuto No Perché lui mi aveva detto Anche Alcune cose Che non ho potuto fare Da punto Perché erano Onerose Non onerose Di scelte Diciamo Di scelte Dirigenziali O alcune cose Che succedevano All'interno Della società Che lui Mi diceva Che sono cose Che non devono Succedere E vedevo anch'io E c'erano cose Che non andava bene Eravate ancora tutti insieme Come so C'erano delle cose Che secondo me Non vanno bene E quindi In una gestione Di una squadra E lo vedevo io Me lo diceva lui Me lo confermava lui E tant'è vero Che abbiamo finito l'anno Che anche all'interno nostro Tanto adesso Voglio dire Possiamo parlarne tranquillamente C'erano degli scressi Cioè io Mi ero schierato Famiglia Barone Con Cati e Pedrini Pega Eravamo quel gruppo qui C'era chi diceva In un modo Chi in un altro Io mi sono schierato Per tutto l'anno A sostegno Dello staff tecnico Della squadra Fino in fondo Poi dopo Tant'è vero che A fine anno Velasco Anche se Aveva il contratto Per un altro anno Decise di andare a Montichiari Mi parlò Dice che Aveva fatto una proposta Di tre anni 2006-2007 2006-2007 Gli avevano fatto Una proposta Di tre anni Dice Io capisco che qua Non c'è Non c'è Non c'è il feeling Che ci deve essere Vado Perché E va bene Perché lui venne Quando abbiamo preso la società Lui aveva il contratto Che scadeva un anno Dice io per avere anche più forza All'interno Eccetera Sarebbe meglio Che io abbia un contratto Per due anni Poi se alla fine dell'anno Le cose non vanno bene Finiamo uguali Però Io devo La squadra Deve sapere Quindi noi facciamo il contratto Per due anni E a fine anno Poi invece lui Decise di andare via E andò via Però è stato Ma è stato anche Come ti ho detto prima Un anno bello Un anno che purtroppo Siamo usciti con Trento Malamente Immeritatamente L'unica partita Che ci hanno veramente Battuto È stata l'ultima In casa Modena Ma l'altra Che abbiamo perso Potevano tranquillamente Vinicela Ed era Scusa Ci sono giocatori Che avresti voluto Prendere E non ci si è Revolgato Per tutta una serie Di ragioni Allora Poi parlavo con Peia Perché io andavo a vedere Qualche partita Dicevo però Quello lì Ti confrontavi Quello lì mi piace Però lui era procuratore Da quanti anni Da sempre Sì Prima dirigente Procuratore Orezio Ma quello per me Cosa facciamo Sì Ti piaceva Certo Però Ma no Perché No perché C'era un motivo Per noi Qualcuno No perché Non andava bene Qualcuno Non siamo riusciti Perché abbiamo provato Ma ha deciso Di restare Dov'era Giocatori che Mi sono piaciuti Di più Dopo ci sono anche Tanti giocatori bravi Che non abbiamo Neanche avuto La possibilità Di scegliere o meno Che ce ne sono tanti Però io Zlatanov È un giocatore Che avrei voluto Portare a Modena Sempre E lo diceva Gollini Che era il suo procuratore Zlatanov Stava bene a Piacenza Quindi è stato lì E ha fatto una scelta È anche da rispettare Perché invece Sono altri giocatori Che cambia tutti gli anni Quindi E un altro Palleggiatore Che secondo me Mi piaceva Come si poneva Caratterialmente Come tutto Era Nicola Gerbic Che quando C'è stato Un buon modo Di cambiare o meno Ho detto Proviamo Però Ho detto No Perché Posso dirti No Ha sempre vinto poco Non vince Quando c'è In realtà Poi ha vinto Due o tre scudetti Quindi Non che avessi Voglio dire Avevo ragione A prenderlo Probabilmente Ci vuole Poi anche Tutto il resto Però Nicola Gerbic Mi piaceva molto E poi Si decise Di fare Diversamente Ed in quel periodo C'era Una forte Impronta Brasiliana Nel 2006-2007 L'anno in cui Si ritira Andrea Gianni C'era Allenatore Bruno Bagnoli Sidao Felipe Riccardo Murilo Per dire Che comunque Erano tutti Nazionali Brasiliani Non c'erano Gente scappata Da casa Quindi giocatori Di altissimo livello Oltre a Gianni Sartoretti Quindi una squadra Insomma Di tutto rispetto No Squadre forti Poi Qua siete già Cimone Cimone Sì sì No la squadra Noi abbiamo sempre Cercato di fare Squadre forti Però con tutti questi Brasiliani Che non si è portato A casa niente No Ma ci sono Ti dico Noi Per me abbiamo avuto Comunque la sfortuna Di Di Trovare Tutti gli anni Una Una corrazzata Fortissima Perché ha vinto Ha vinto Macerata Ha vinto C'era prima Treviso I primi anni C'era Treviso Che era ancora forte E poi C'è stato Cuneo Che ha avuto Gli anni con Weisman Prima Poi Nikolov Prima avevano Giba Avevano una squadra Squadra forte E tutti gli anni Trento Poi Civitanova Ha anche Piacenza E Anche Piacenza E Penso che La squadra Sia importante Nella pallavolo Ma anche nel calcio Volendo Nella pallavolo Forse ancora di più Perché Giocano più palloni Ma ci vuole L'uomo che ti fa vincere L'uomo che fa la differenza Numero dieci Il dieci O il nove Quello che è Che Quando è ora Fai Era un'ottima squadra Però mancava Diciamo A quel punto Le squadre che hanno vinto Hanno vinto I sette anni Mi ricordo benissimo Che Trento aveva Kaczynski Poi aveva Antoregna Cuneo aveva Weisman Al massimo Piacenza aveva Zlatanov E Macerata Aveva Milikovic E poi dopo Ha avuto Omercen L'oppostone Che quando arrivavi 22 21 22 23 O ci facevano la battuta O mettevano giù La palla difficile E lì Una palla o due Vincio perdi Il sette E la partita Il 2006-2008 Tenete a battesimo Andrea Gianni Come allenatore Cosa che fa Adesso ancora In modo egrigio Arriva Dennis Sempre a Sartoretti Tencati Murilo Andrea Riccardo Insomma diciamo Quello spesso Sottolineare Che non è che In quel periodo La società Si tirasse indietro Non cercava Viste anche Le disponibilità Di quelli Che erano I giocatori Sul mercato Di fare Il massimo Perché comunque C'è sempre Stata l'idea Che a Modena Se uno vuole Fare il pallavolo Bisogna che cerchi Di farlo Ad alto livello Altrimenti Anche se quest'anno Devo dire Pur non essendo Ci stato Pallavolo Ad alto livello A Modena Il pubblico È stato Secondo me Extraordinario Perché non c'è stata Una sola soddisfazione Ci fermiamo un attimo E torniamo subito Con Giuliano Grani L'ultima parte Sì Mesa regalata Però Frequenti anche Di stadio Ma siamo andati a vedere L'anno scorso Con il Napoli Sì qualche partita Una partita No La Champions Ma altrimenti Guardiamo per televisione No Sono appassionato Di calcio Però Sì Non come una volta Poi Penso che Si è andato Un po' Oltre lo sport Come ti dicevo prima C'è il valore Dei giocatori Ma c'è troppe Troppe cose Che possono cambiare Troppi interessi Anche Beh gli interessi Assolutamente sì Però anche All'interno Le regole Non condivido Un poco Condivido poco Gli ultimi cambiamenti Che ci sono stati A livello di regolamento Sui falli Che danno Dei rigori Per delle Delle maniche Non inesistenti Per me il rigore Era quando uno Fa un fallo apposta Fa una cosa volontaria Non se gli arriva Conto una palla E anche le decisioni Che fanno del VAR Sono imbarazzanti Perché Prendono delle decisioni Che cambiano L'esito della partita E lo stesso episodio Viene interpretato Quindi delle volte Questo Ti stacca un pochino Poi la passione c'è La partita dopo Si riguarda Però Ma sei rimasto legato A qualche personaggio Nel mondo della pallavolo Con quale magari Ti senti per telefono Ti senti per Natale Ma io Siamo rimasti amici Con Dennis Che si è fatto sentire Perché siamo anche visti Quando è tornato in Italia Quando è tornato in Italia Siamo sempre stati In buoni rapporti Ci scriviamo Ci sentiamo Ha smesso di giocare Immagino lui Sono passati tanti anni Ha 43 anni Però ha giocato ancora Fino a forse ieri E Bruninio Che c'è l'opportunità Anche qua Lo ritengo Ma un figlioccio Anche perché Poi suo padre C'ha qualche anno più di me Poi ho buoni Buoni rapporti Comunque Ma sai Dopo sono molto impegnati Tutti quindi Fai un saluto Meno Quando mi capita di andare Vedo un mucchio di gente Da salutare Che non mi ricordo neanche Quindi ho buoni rapporti Con Tra lato Tutti i giocatori E presidenti Allenatori Di tutto Anche se eravamo avversari O se è discusso in campo Direttori Ottimi rapporti Con tutti I componenti Della pallavolo Che ci sono Tranne uno Tranne uno Tranne uno Che non ho mai avuto Rapporti Di saluto Di cose Solo uno Del tutto il mondo Della pallavolo Che non ho mai avuto Modena No 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 Uno del mondo Della pallavolo Uno del mondo Che è ancora attivo È ancora attivo Uno solo Uno solo Beh diciamo Uno lo dirai In separata sede Andando Per sommi capi Raccontando questa storia Nel 2008 Escono Cate e Pedrini E il sparito barone Rimanete tu e Pedrini Si è messo un po' Di ordine Nel senso che lì C'era Eravate sempre in due Comunque c'era anche lì Da discutere Sulle scelte Vanno via tutti i brasiliani Eravano in quattro Perché avevano due Cioè loro rappresentavano Parone Una proprietà E non un'altra Messe insieme Ma le teste erano quattro Quattro Non è che Una dicessero uguale Una uguale Quindi dopo Quando Compeia C'era più sintonia Sì Però Come ti dicevo prima Quando si facevano le cene Prima Non è che Ci fossero due scelte Delle volte Ce n'erano quattro Quattro Quindi è ancora più difficile Quattro scelte Quindi potrebbe essere Due contro due Era un mescolamento Non è che Qui c'è questa svolta Importante Che si chiude Con il discorso Di brasiliani Vanno forse a fine Contratto Si era vinto poco Se non la Challenge Cup Mi ricordo ancora La Coppa Che magari adesso Fanno un giro Con Soli palleggiatore Perché Riccardo Ce l'ha fatto male Che ringraziamo ancora Fabio Soli E credo che anche Due ricordi Per quel trofeo vinto Inizia un nuovo percorso Con Travis palleggiatore Coistra Murilo Sidao rimangono Insomma diciamo che Era rimasta comunque Il desiderio E la volontà Di fare una squadra Competitiva Abbiamo sempre Provato E sforzato Di farla Perché ti dico Come mi hai chiesto prima Il tempo libero Era dedicato Arrivava a Peia Con la sua valigetta A casa mia Che fu il sabato pomeriggio La domenica O la sera Con la valigetta Con il giocatore Mi piace la valigetta Sì Però un grande acquisto Secondo me lo fai Nel 2000 2009 10 settembre 2009 Quando Modena Presenta Bruno De Ré Direttore generale La pallavolo Bruno De Ré è stato 22 anni In precedenza Alla Sisley E siete andati a prendere Diciamo Uno degli artefici Di quel successo Perché è chiaro Di Katia Pedrini Sì Era un direttore generale 360 gradi Faceva l'interesse Della società Una persona piacevole E' una persona E' una persona molto competente Perché per vincere Ci vogliono i soldi Bisogna spenderli bene E poi Tenere anche l'ambiente In un certo modo Quindi diciamo che Treviso Era da re Cioè la famiglia Benettono Ovviamente ha messo Tutto quello che serviva Però era lui Quindi A noi Secondo me E' una persona Ma poi c'era un'idea Di fare una pallavolo Più sostenibile Cioè prendendo un manager Come da re Di cercare di far quadrare Di più i conti No? Ma in generale Tutto Sia quadrare i conti Un po' L'organizzazione in generale Lui è uno Ripeto Che seguiva tutto Dai conteggi Rapporti con giocatori Con i tifosi Era uno Al quale ti potevi affidare Cosa che prima Invece Abbiamo avuto Qualche Direttore Che però ci dovevamo Sempre fare di più noi Poi anche lui Non ha mai preso Decisioni da solo Veniva sempre A confrontarsi Non aveva Il mandato libero Cioè un budget Con cui faceva Ci confrontavamo Sempre Sulle varie scelte Però dopodichè Faceva tutto il lavoro Che c'era da fare E sono contento Di averlo preso E aver fatto Insomma Tante cose insieme Sì In un certo punto 14 giugno 2012 Dopo che sembrava Che tu contessi Continuare Come presidente Come socio E come finanziatore Decide di fare un passo indietro Quella cosa Ha sorpreso un po' tutti Perché non ce l'aspettavamo Mia Il tuo desiderio La tua uscita Appunto nel 2012 14 giugno 2012 Conferenza stampa Dove si pensa Che tu annunci Che prendi XYZ Invece Possibilità È la famosa crisi Del settimo anno Questa Dal 2015 Dal 2005 A 2020 In realtà Si è verificato questo Perché il budget Dele società Sono in questi 10-12 anni Quasi Penso raddoppiati Quelle più importanti E quindi Le nostre possibilità Non potevano arrivare a quello Noi Diciamo che abbiamo avuto Qualche sponsor importanti Ma non abbiamo avuto Tanti sponsor Come nella gestione Poi della Pedrini Successiva Sartoretti Eccetera Quindi Questo è stato Hanno avuto sponsor nazionali Loro DHL Asimut Sì ma anche a livello locale Hanno degli sponsor importanti Imprenditori Gente Invece non c'era una grande Noi facevano noi Non siamo mai Forse abbiamo sbagliato Gli approcci o meno Ma non abbiamo mai avuto Un ritorno così importante Come loro Se c'era un po' più di Coesione Che potevano contare Su diverse cose Forse avremmo potuto Anche provare a continuare Ma partendo Come dicevo Da zero Sapevamo quelle Che erano le nostre possibilità Il resto Dove arrivare Non arrivava Era difficile Dare delle garanzie Quindi se dovevo Continuare E rischiare Poi che Modena andasse male Proprio che non poterla Sostenere Meglio Quindi con Peia Facemmo l'accordo Che lui portava avanti La società Un anno Pagammo le spese Che c'erano Noi da pagare E per chiudere Tutto quello Che era da fare Poi lui aveva il mandato Di fare un altro anno E cercare di Poi eventualmente Dare continuità A Modena Al lavoro Modena Che poi è anche stato Quello secondo me Che lui aveva già Voluto fare prima Quando vendeva Vandelli Perché Vandelli Un primo anno Saltò Il secondo anno Noi la comprammo Ma secondo me Se saltava Avevo Lui non me l'ha mai detto Ma secondo me C'era sentito Ventilato Qualche ipotesi Come è successo In altre città Che il titolo Era stato comprato D'altre parti D'altre parti C'è stato Adesso Ci sono state comprate E portate Per dire Montichiari Andata a Monza E penso che Trento Comprò Ma da Mantua Quindi Che arrivasse uno Che comprasse la serie A Di Modena E la porta Dall'altra parte Era Orrore Orrore Quindi Il nostro acquisto Secondo me Un motivo È stato Quello Che Quello E successivamente Fu così Poi dopo Peia Si Usendo Peia Ci fu La Nuova E le nuove Proprietà Di tanti soci Tanti soci Anche lì Chiamarono anche me Andai a una riunione Dove appunto C'era Però anche lì C'erano tante teste Troppe Ancora di più Di prima Quindi Ho detto Io Do una mano Ma troppe Diciamo che Nia di massima Le società sportive Dove c'è uno E' già troppo Si dicono Che Così è stato Per Vandelli Così è nel calcio Oggi A Modena A Sassuolo Ci vuole Una maggioranza Ben delineata In modo tale Che qualcuno Si possa prendere Responsabilità E possa fare Le scelte giuste Ma se tornassimo Nel 2005 La cosa di cui Sei più fiero Che hai fatto E' un errore Che non vorresti Più commettere Se dovessi Ricominciare A fare una cosa Ma un errore Secondo me È stato Di cambiare Troppi allenatori Per me Sette anni Sono sei o sette Più o meno Troppi Per costruire Qualcosa di Importante Ci vuole Un progetto Un allenatore Uno stack Che deve cominciare A lavorare E dargli almeno Due o tre anni Di tempo Per cercare Di ottenere Non che Dopo due mesi Si metta in discussione An allenatore Che c'è O meno Quindi questo Secondo me È stato Uno degli errori Che bisogna evitare Cioè Vedi Appunto anche Dove ci sono Facciamo sempre L'esempio del calcio Ci sono Delle società Dove hanno Degli allenatori Che hanno Dei cicli Ma Molto lunghi O anche Dei direttori Generali Altrettanto bravi Che ti possono Creare una cosa Che però Hai bisogno Dei due Tre Quattro anni Poi dopo Cambiare tutti gli anni È deleterio Invece una cosa Che hai fatto bene Di cui sei fiero O hanno fatte tante Quella che Sarei stato fiero Non sono riuscito a farla Di vincere a Trento E vincere lo Scudetto Che era il nostro sogno Questo è successo Nel 2011 L'anno prima Della tua decisione Di uscire di scena Quindi sarebbe stata Sicuramente La giusta Anche perché C'era quella delusione lì E poi la delusione Dell'anno dopo Che è stato un anno Non bello Sotto tutti gli aspetti Non sono utile Manca i risultati Sì in generale Quindi dopo ha portato Era un ciclo Che si stava spegnendo Dall'entusiasmo Che c'era all'inizio Tutte le difficoltà Però siccome È stato un ciclo Utile Importante Per permettere La moda Di continuare Nella sua tradizione Nella sua presenza Al massimo livello Perché Giuliano Ha detto bene C'era anche il rischio Che il titolo Potesse essere trasferito Dalle altre parti Quindi Sono stati benvenuti Gli imprenditori In quel momento lì Come lo sono stati Quelli che sono arrivati Dopo Che hanno permesso Alla volo Modena Di continuare A offrire uno show Ai propri tifosi E anche in questi giorni In quest'annata Un po' Travagliata Comunque il pubblico di moda È stato sicuramente Migliore della squadra Quindi questo è Sicuramente Il pubblico Anche per quello che mi riguarda Bisogna solo ringraziare Sempre ha avuto Un grande rischio Credo che anche i tuoi confronti Siano sempre stati riconoscenti Anche per quello che avete fatto Io ho un gran ricordo E una grande stima Di tutto il pubblico Da tutti i ragazzi Della cura Dal pubblico più Ford A tutto il re Tutto l'altro Il fatto di essere ricordato bene Questo che sia Quando c'è uno sport In mezzo alle squadre I calci I risultati Insomma c'è sempre il rischio Invece credo che tu Sia giustamente Tu sia ancora ricordato Per quelle cose buone Che sono state fatte In quel periodo Noi abbiamo finito La nostra chiacchierata Dovevo fare un saluto Anche scusami Perché abbiamo parlato Di pubblico Mi è venuto così adesso Si A un grande personaggio Che è stato Il settimo uomo in campo Per tanti anni Che adesso non è più Al palasport Ma vedo ogni tanto A mangiare una pizza E questo Non conto di qualche pizzeria Che è Antoine Antoine Che saluto Con grande affetto E anche lui Mi ha dato Tante soddisfazioni Con i suoi modi Ha creato La prossima volta Chiamiamo anche Antoine Magari parliamo di calcio Ci vediamo presto Ci vediamo presto Grazie a voi Che ci avete seguito Grazie Giuliano Per aver stato con noi Noi ci vediamo Come sempre La prossima settimana Buona notte Grazie Buonasera Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti